Prima gli insulti, poi la rissa tra due gruppi di minorenni, culminata con il ferimento di uno dei ragazzi, un 17enne di Biceglie, colpito con una bottiglia al capo e con la stessa ferito gravemente al collo. Il presunto responsabile del ferimento, un suo coetaneo, è stato identificato grazie alle testimonianze dei presenti ed è stato fermato. Teatro della Zuffa, venuta nella tarda serata di domenica, il porto di Trani. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che la polizia. All'origine della rissa pare esserci un diverbio legato alla provenienza dei ragazzi. Il ferito è ricoverato all'ospedale Bonomo di Andrea.